I tiri, pause sabbatiche e chi più ne ha più ne metta. Adesso attenzione perché tocca la pattinatrice che in questi giorni ha dimostrato di essere più in condizione. Watanabe Arinka dal Giappone in allenamento ha completato bene il triplo axel. Adesso bisogna portarlo in gara. Grazie a tutti. 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 Ragazzi a tutti. Grazie a tutti.